In questo video cercherò di confutare alcuni luoghi comuni sul poema dantesco e di mostrare i principi ispiratori dell'opera. In particolare ci soffermeremo sul titolo, sulla lingua, sul metro, sulla struttura, sulla complessità estetica e filosofica, nonché infine sulla tradizione manoscritta. Cominciamo dal titolo. Dante ricorre due volte al grecismo comedia, con ossitonia, ovvero l'accento finale tipico dei nomi greci secondo la pronuncia medievale, nell'inferno al canto sedicesimo per le note di questa comedia e al ventunesimo altro parlando che la mia comedia cantar non cura, sempre al settenario tronco. Già i commentatori trecenteschi, compresi i figli di Dante, Jacopo e Pietro, ricorrono a questo titolo. La parte esegetica dell'epistola cangrande, ne spiega la scelta con l'epilogo lieto della comedia contrapposto a quello doloroso della tragedia, ma oltre al fatto che diversi studiosi considerano l'accessus, l'introduzione al poema, un'aggiunta spuria alla lettera con cui Dante dedica il paradiso al signore di Verona, bisogna tener conto che Dante implicitamente contrappone la sua comedia alla tragedia virgiliana, ovvero l'eneide, citata dallo stesso Virgilio nel ventesimo dell'inferno come l'alta mia tragedia. L'interpretazione più probabile è dunque legata all'antitesi tra l'esametro latino dell'autore prediletto, colui da cui ho tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore, con una lingua incorruttibile che Dante chiama grammatica e considera artificiale, e l'indegasilla volantesco, di base fiorentina ma aperto a prestiti provenzali, sicilianismi, latinismi e qualche sporadico esito di altri volgari italici. L'aggettivo divina fu aggiunto da Boccaccio e il titolo divina commedia cominciò a diffondersi a partire dalle stampe del Cinquecento. La lingua della comedia contraddice in poto il modello teorico del devulgare eloquenzia, trattato non a caso incompiuto, nel quale si propone una rigida selezione lessicale per lo stile alto, secondo il modello medievale della rota vergili applicato alla lingua volgare, la ricerca di una lingua sovramunicipale, il repudio del fiorentino, la canzone come forma metrica più nobile. Tale visione è perfettamente congrua con le canzoni filosofiche del convivio, altra opera incompiuta, più o meno degli estesiani, siamo fra il 1304 e il 1306. L'assenza più vistosa, ma spesso non debitamente evidenziata, è quella della parola volgare, sia come aggettivo, sia come sostantivo, con il significato linguistico, nella comedia, laddove per parlare della lingua del sì, Dante ricorre a espressioni quali moderna favella o parlar materno. Ciò verosimilmente accade perché dopo l'interruzione del convivio e del devulgare eloquenzia, Dante rivaluta ancora di più la lingua dell'uso, evitando di connotarla in senso palesemente negativo come idioma del volgo, e invece apprezzando appieno la trasmissione intergenerazionale, aspetto su cui si sofferma anche nel devulgare, appunto, la lingua della nutrice, la varietà di registri, le potenzialità di tutte le parole senza censure aprioristiche e l'utilità di apporti da altre lingue. Insomma, quelle ragioni che porteranno Pietro Bembo, autore delle prose nelle quali si ragiona della volgarlingua, 1525, a ridimensionare il ruolo di Dante per la definizione del modello linguistico da seguire, preferendogli il più uniforme Petrarca, a sua volta vicino al modello lirico del devulgare eloquenzia. La scelta della terza rima, metro secondo alcuni derivato da uno schema delle terzine del sonetto cdc-dcd, che ritroviamo nel fiore attribuito a Dante, oltre ad evocare lo schema trinitario, facilita lo sviluppo della narrazione in versi, con una catena di rimanti, A, B, A, B, C, B, C, dc, eccetera, capace di catturare l'attenzione del lettore. Tuttavia, chi si è cimentato con la rima incatenata sa bene che due sono le principali difficoltà. Non cedere alle forzature, o meglio all'eccesso di metafore, non cadere nella banalità della rima desinenziale, ad esempio il participio passato. Dante si destreggia alla perfezione e anche dalle rime più rare ricava effetti poetici imprevedibili, ad esempio la profezia del Veltro, tutta giocata sugli unici rimanti possibili, Peltro e Feltro. Quando ci accostiamo alla trama e alla struttura della comedia, dobbiamo pensare che per il lettore del Trecento l'impianto dantesco stravolgeva la letteratura delle visioni oltremondane, ad esempio Giacomino da Verone, Bonvesin dalla Riva, per due motivi, oltre all'ovvia distanza stilistica. L'ingombrante presenza dell'autore personaggio, con tutto il suo bagaglio di esperienze e la sua visione del mondo, l'importanza delle biografie delle anime, dannate, penitenti e beate, la cui condizione ultraterrena, pena, penitenza o gloria celeste, riflette quella psicologica. Un espediente geniale, spesso sottovalutato nella ficzio del poema, è il differimento dell'entrata in scena di Beatrice alla fine della seconda cantica nell'Eden, tolto l'episodio dell'incontro con Virgilio nel secondo canto dell'Inferno, là dove si pone un sigillo amoroso e divino insieme sul viaggio dantesco, voluto da tre donne, Maria Vergine, Santa Lucia e, appunto, Beatrice. L'attesa di Beatrice è fonte di tensione narrativa e stimolo a raggiungere il primo importante traguardo della fine del Purgatorio, verosimilmente intorno al 1313. Il poeta latino, scelto come guida per inferno e purgatorio, incarna quella dimensione elegiaca che fin dal principio contraddistingue la comedia rispetto alla poesia religiosa e devozionale, che non si cura delle contraddizioni del cristianesimo come, appunto, la dannazione dei pagani giusti, nati prima di Cristo, i quali vivono senza speme nel disio della grazia divina. L'organizzazione dell'aldilà dantesco non è qualcosa di posticcio ed esteriore, come riteneva Benedetto Croce, distinguendo le parti strutturali dalla vera poesia, ma è essa stessa centrale per un pieno godimento estetico. E qui veniamo alla complessità del pensiero dantesco, che non è riducibile al tomismo, ovvero alla teologia di Tommaso d'Aquino. Sui capisaldi della fede cristiana, l'immortalità dell'anima e il libero arbitrio, Dante non ricorre a giustificazioni puramente razionali, bensì invoca un atto di fede. Dio infatti infonderebbe direttamente nel feto, quando l'articular del cerebro è perfetto, quando il cervello è compiutamente formato, un'anima intellettiva immortale, libera di scegliere tra il bene e il male e quindi di essere premiata o punita. Del resto, nella corona degli spiriti sapienti, è lodato Sigiri di Brabante, filosofo averroista, ovvero seguace dell'interpretazione di Aristotele fornita dal filosofo arabo Averroè, condannato per alcune sue proposizioni. Questi, secondo lo stesso Santommaso attraverso cui parla Dante stesso, si ilogizzò invidiosi veri. Ancora oggi mi sembrano valide le argomentazioni di Bruno Nardi e di Etienne Gilson sull'elogio di Sigiri come onesto pensatore, che rivendicava l'autonomia del commento ad Aristotele non viziato da pregiudizi religiosi. La capacità dantesca di coltivare il dubbio deriva anche dal confronto con il suo primo amico, Guido Cavalcanti, che coltivava la lirica d'amore con sincerità di ispirazione e originalità di forme, ma anche l'averoismo nelle conversazioni quotidiane e, come traccia scritta, nella sua canzone dottrinale Donna me prega sulla natura dell'amore in base alle concezioni dell'aristotelismo radicale. Purtroppo di Dante non ci resta alcun autografo, pertanto stabilire il testo del poema è possibile solo confrontando la tradizione manoscritta, in particolare stabilendo rapporti genealogici fra i vari testimoni attraverso errori caratteristici. Non avremo mai un testo certo al 100%, ma un'approssimazione al testo originale. Oltre ai codici dell'antica vulgata già individuati da Giorgio Petrocchi per l'edizione critica, affidata alle sue cure dalla società dantesca italiana, all'epoca 1957-1967 presieduta dal grande Gianfranco Contini, mi sono imbattuto durante le mie ricerche nel Palatino 319, custodito alla Biblioteca Nazionale di Firenze della metà del 300, che sembra appartenere a un ramo indipendente della tradizione. In questa sede mi limiterò a portare un piccolo esempio, l'incipit dell'ultimo canto del Paradiso, che tutti leggono Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Nel Palatino 319 risulta ipermetro, cioè con una sede in più rispetto all'indecasillabo. O Vergine Madre, figlia del tuo figlio. La opera il vocativo è fondamentale per Dante dal punto di vista espressivo, soprattutto a inizio di canto, e infatti la ritroviamo perfino nel Pater Noster volgarizzato, o Padre Nostro che ne c'è l'istai, con cui comincia l'undicesimo del Purgatorio. Ma come si può conciliare con il nostro verso? Leggendo Vergine con apocope vocalica, ovvero troncamento, o Vergine Madre, figlia del tuo figlio. La forma tronca si ritrova in diversi laudari e la usa anche Bonvesini della Riva, a un'ordra Vergine Madre de quella flor soprana. Per una rilettura complessiva di dodici canti della comedia vi invito a seguire le nuove letture dantesche curate da me sul portale Tre Cani al link indicato nel testo di presentazione. Grazie per la vostra attenzione e mi raccomando rispettate la quarantena perché in questo periodo l'esempio di Catone Luticense va rovesciato. Più cara della nostra libertà è la vita degli altri, come sa chi per lei a casa resta.